L'abbiamo raggiunta sul luogo di lavoro nel suo studio per parlare delle linee guida che ne ispireranno l'azione. Chiara Costaiola è il nuovo presidente dell'Ordine degli Avvocati di Isernia. Per l'Avvocatura Pentra, un passaggio che, mutuando le parole della neoeletta, costituisce un preludio a un cambio di sensibilità. Costaiola in Molise è la prima donna alla guida di un ordine forense. Devo dire che la gratificazione è tanta, però adesso già ho voltato pagina e bisogna pensare al fare, all'andare avanti. E quindi mi trovo alla guida del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Isernia e quindi c'è da lavorare, c'è da continuare nel progetto di ammodernare l'Avvocatura, di dotarla e di accompagnarla attraverso i servizi che fornisce il Consiglio dell'Ordine a una maggiore professionalità, a una maggiore competenza che si richiede in questo contesto e altro compito è anche quello di garantire ai cittadini l'offerta di un'Avvocatura sempre più competitiva e deontologicamente, professionalmente preparata. Reddito è un ordine ordinato, un Consiglio dell'Ordine efficiente, ammodernato, che però necessita ancora di più di adeguarsi alle necessità dell'Avvocatura che sono sempre più esigenti e quindi il lavoro assolutamente va continuato, va migliorato e c'è tanto da fare. E nel passaggio elettorale dello scorso 12 luglio ho rinnovato anche il segretario del Consiglio dell'Ordine, una carica anche questa a tinte rosa, designato il giovane Avvocato Roberta Moscardino.